Restano ancora evidenti le lacune all'interno delle piante organiche della sanità in provincia di Trapani, problemi che si ripercuotono alla fine nella qualità dei servizi e che portano ad un inevitabile ingolfamento degli ospedali e delle strutture sanitarie collegate. Problemi etavici a cui l'ASP trapanese sta cercando di mettere una pezza, proprio in queste settimane, affidando incarichi di responsabilità. Per l'esattezza saranno affidati a stretto giro di posta 120 nuovi incarichi, tra posizioni organizzative e posizioni di coordinamento. Per raggiungere questo obiettivo, il direttore Fabrizio De Nicola ha deliberato una somma di circa 2 milioni di euro per la durata di un anno ed ha dato avvio alle trattative con i sindacati, con un primo incontro che già si è svolto tra le parti interessate e altri che si svolgeranno nelle prossime settimane, con l'intento di stabilire i criteri e chiudere il cerchio. Al momento la situazione degli incarichi di coordinamento e delle posizioni organizzative vede tra gli infermieri un numero complessivo su tutto il territorio provinciale di circa 1.200 incarichi e tra questi 142 quelli superiori, di cui 110 quali incarichi di coordinamento tra le figure di estetriche, tecnici di radiologia e di laboratorio e 32 quali posizioni organizzative. Gli amministrativi invece con posizioni organizzative sono 88. Molto probabilmente si procederà ad una conferma del numero e della suddivisione degli incarichi. Bisogna accelerare al massimo i tempi, afferma il responsabile territoriale del sindacato Nursing Up, Baldo Scaturro, in quanto senza le relative nomine ne risentono l'efficienza e la qualità dei servizi. Qualche mese fa aveva presa la parola l'Ordine dei Medici della provincia trapanese che non aveva lesinato critiche nei confronti proprio dell'organizzazione del personale nella sanità trapanese. Erano state evidenziate le mancate nomine dei primari, la stabilizzazione del personale sanitario e degli ospedali del territorio trapanese, la riduzione delle liste di attesa e la mancanza di organi con i nosocomi della provincia. Anche i sindacati hanno espresso nel tempo più di una perplessità in ordine all'organico, soprattutto la UIL, che manifestò una diffusa carenza specie negli ospedali Borsellino di Marsala e Sant'Antonio Abate di Trapani, dove fu evidenziata una criticità diffusa in molti reparti dei nosocomi. La UIL poi parlò di inequivocabile carenza di infermieri, di operatori sociosanitari e di ausiliari.